siamo qui ben ritrovati ultimo appuntamento settimanale con ex cattedra pillole quotidiane dedicate al calcio foggia 1920 il catanzà è ancora lontano saprete il foggia scendere in campo soltanto lunedì sera e lo farà conoscendo già i risultati di tutte le altre formazioni questo è un piccolo grande vantaggio per la formazione di Zdenek Zeman che a 270 minuti dalla conclusione della stagione regolare ha ancora un obiettivo precipo da conseguire migliorare la sua posizione di classifica il settimo posto comunque rappresenta un traquattro non disprezzabile alla luce anche del fatto di quelli che erano stati propositi alla legge di questa stagione ma oggettivamente c'è la possibilità di fare meglio e dunque non bisogna lasciare nulla di intentato oltretutto questo turno il terzo ultimo della regular season propone due tre sfide che possono agevolare il cammino del foggia beh c'è il monopoli che sarà impegnato con il palermo c'è anche l'avellino che sarà di scena a bari contro una formazione già promossa ma sappiamo quale quanta sia la rivalità fra i due club e quindi immaginiamo che non sarà una gara scontata e poi e poi c'è la virtus franca villa che dovrà vedersela con il monterosi occhio a questa gara in trasferta per i brindisini perché il monterosi la squadra che appena abbattuto il catanzaro in trasferta e che da neopromossa dopo aver conseguito la salvezza adesso mira con come dire buone possibilità di riuscita anche a centrare un posto nei pre off dunque gara dedicata decisamente per la virtus franca villa intanto c'è un piano playoff da queste parti è chiaro e palese evidente è stato delineato nella cena sociale chiamiamola così che c'è stata non più tardi di ieri in un noto ristorante a pochi chilometri da foggia c'era la squadra c'era lo staff tecnico c'erano tutti i dipendenti e i collaboratori c'era evidentemente il presidente è canonico che aveva promesso di pagare una cena in caso in cui foggia avesse conseguito quattro vittori di fila ed è stato di parola ma quella è stata l'occasione per guardarsi negli occhi e per come dire mettere a punto una sorta di braccio di come dire di intesa tra le righe per puntare al massimo in questa fase finale della stagione regolare e in ottica playoff c'è una sorta di patto di ferro non lasciare nulla di intentato giocarsi ogni gara al massimo delle proprie possibilità perché è così per una squadra soprattutto quando questa è allenata da zdenek zeman ci risulta che l'allenatore poemo e poi anche il ds paone guardino alla fase post campionato con interesse e curiosità per capire il foggia alla fine dove potrà posizionarsi ma prima bisogna chiudere bene questa fase finale di stagione 9 punti a disposizione il foggia deve provare a fare l'enplay ed è decisamente nelle sue corde ciao grazie e buon weekend se volete mi ritrovate da queste parti a partire da lunedì prossimo